Wow 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 amici appassionati di gaming e di Hearthstone e ben entrati qui sul canale del duca per la rivelazione delle nuove 36 carte faremo chiaramente una review molto veloce e molto tranquilla di queste nuove carte uscite ma prima volevo ringraziarvi per la possibilità che mi avete dato di rivelare una carta in esclusiva per quanto riguarda Hearthstone la prima carta mai rivelata in Italia ragazzi non me l'hanno data chiaramente per la mia skill non me l'hanno data perché sono bello, non me l'hanno data perché sono simpatico anche se un po' penso di esserlo, me l'hanno data perché ci siete voi qui sul canale quindi vi ringrazio ancora tanto per questa possibilità ragazzi, questa ennesima possibilità che mi avete dato questo ennesimo traguardo raggiunto, grazie, grazie, grazie ma partiamo adesso ragazzi fast con la review delle carte andiamo subito con le carte generiche, cost 1, 2, 1, Glacier Shard, Battlecry, Frizan, un minion avversario ed è un elementale, elementali saranno molto presenti in questa espansione carta buona, è buona anche in combo con lo Shatter del Mago per una rimozione a 3 vedremo quanto gli elementali si imporranno secondo me, vedendo le carte diventano molto interessanti come infatti abbiamo il Tolvir Stone Shaper che è un difensore del Seijin, un Seijin Shield Master però prende anche Scudo Divino, se nel turno precedente abbiamo giocato un elementale quindi fortissimo se riusciamo a metterlo giù con Scudo Divino e Provocazione andiamo anche dal prima fill Lookout, un Marlock o Murlock, come diavolo si chiamano fatemelo sapere nei commenti, sono mesi che cerco di capire se si chiamano Murlock o Marlock costo 3, 3, 2 è come grido di battaglia se controlli un altro Murlock scopri un Murlock a me sembra discreta, non eccezionale perché devi controllare un altro Murlock magari te li hanno rimossi e quindi questa carta diventa un costo 3, 3, 2 abbastanza scarso questa non mi fa impazzire per niente ancora carta elementale, la leggendaria, generica, in questo caso costo 9, 5, 5, elementale appunto Provocazione, grido di battaglia, 5 salute per ogni elementale giocato nel turno precedente lo possiamo far diventare veramente, veramente molto grosso ma è target singolo, tante classi hanno una rimozione secca per un target del genere pensiamo sullo stregone con il risucchio dell'anima secondo me ragazzi è ancora meglio Soggot a costo 9 ma non può essere targetato da magia o poteri eroe quindi meglio Soggot di questo questa non mi piace neanche questa carta passiamo oltre ora la lucciola di fuoco troppa 1 per gli elementali appunto costo 1, 1, 2 e come il grido di battaglia ci mette nella tua mano un altro elementale 1, 2 che non ha particolari effetti quindi tutte queste sinergie, tutte queste carte servono per far funzionare questa famiglia questa nuova famiglia degli elementali e passiamo alla Melba Ingorda oh mamma mia cosa stanno pensando i nostri amici pirati dovete morire male costo 3, 3, 3 grido di battaglia distrugge l'arma dell'avversario e fornisce armatura pari al suo attacco quindi minimo 3 di armatura l'abbiamo acquisito senza contare appunto che con la meccanica degli sgherri torvi può diventare molto molto più interessante e molto molto più grossa bella sta carta mi piace il Volcano Sauro Coto 755 si adatta due volte l'adattamento può essere una meccanica molto forte ve ne ho già parlato ragazzi visto che tramite la meccanica del Discover quella che ti dà 3 carte e una sola potrai scegliere potremo trasformare questo migno con Scudo Divino, più 3 attacco Furia del Vento non può essere targetato da Spell o Potere Eroe possiamo dargli rento di morte metti due piante uno sul campo possiamo dargli provocazione più uno più uno alle statistiche più 3 solo alla statistica della salute stealth quindi nascosto con copertura e distrugge un migno che viene colpito da questo servitore in questo caso è il veleno quindi ragazzi possiamo veramente evolverlo in maniera importante in maniera interessante in più vi dico già che il Volcano Sauro ragazzi è stato detto che verrà data dorata per una delle promozioni di Angoro quindi non sta ancora specificato come magari entrare 3 giorni di fila 5 giorni di fila in Arston all'uscita di Angoro e vi verrà data dorata e sarà anche disincantabile chiaramente attenzione si passa alle carte un po' più succose e più interessanti la quest dell'Hunter sembra molto interessante perché a 1 avremo a tirare la regina la missione sarà gioca 7 servitori da 1 di mano la ricompensa la regina carnassa la regina carnassa è questa cosina qua a grido di battaglia mette 15 raptor nel tuo mazzo 15-15 ragazzi giocheremo con 45 carte e a costo 5-8-8 è una bestia e ci darà appunto 15 di questa prole di carnassa quindi l'invasione dei raptor incazzati perché a costo 1 metteremo giù un 3-2 che ha come grido di battaglia pesca una carta se questa quest non lo so ancora ragazzi vedremo sarà completabile in non molti turni avremo veramente un'invasione incredibile di 3-2 sul campo ragazzi questo è molto interessante anche perché ci fa pescare una carta sapete che l'Hunter fatica a trovare un meccanismo di pesca e questo invece ogni volta che dropperemo questo costo 1-3-2 che è già esagerato pescheremo anche una carta quindi sembra molto interessante bisogna vedere tutte queste quest come se verranno completate in che maniera ma al momento mi sembra molto molto buona e per riuscire in questa quest ragazzi abbiamo anche il costo 5-3-5 sempre dell'Hunter Tolvir Warden Buttercry di battaglia pesca 2 minion a costo 1 dal tuo mazzo quindi ci aiuta per completare questa quest è un costo 5 diciamo che l'Hunter non aveva troppo costi 5 come minion interessanti quindi questa può essere interessante in più un 3-5 insomma non è una carta face chiaramente anche la quest non è molto face ma me la immagino più mid range diciamo che i mazzi proprio completamente face la blizza sta cercando un attimino di limitarli il più possibile passiamo al druido con una carta per un token druid ossia quello che mette tanti pezzi sul campo per poi pomparli per poi dargli tutti quegli effetti che poi mettono in grossa difficoltà l'avversario e questa è un costo 5 mana vivente epica trasforma i tuoi cristalli di mana base in trent 2-2 con rantolo di morte fornisce un cristallo di mana vuoto cerchiamo di capire bene come funziona ragazzi quindi abbiamo 5 di mana usiamo questa magia ci mette 5 2-2 sul campo qual è il problema fondamentale ragazzi di questa magia che hanno rantolo di morte fornisce un cristallo di mana vuoto e se li facciamo involuzione con lo sciamano gg praticamente gg perché questo sta con 0 cristalli di mana è finita la partita non lo so lo sciamano con involuzione con tutte queste cose che ci sono ancora dentro le varie leggendarie le varie cose incredibili anche per quanto riguarda il paladino che vedremo poi la leggenda del paladino che esce dalla quest tutte queste cose qua che hanno rantolo di morte veramente forte l'involuzione dello sciamano resta carta devastante a mio parere passiamo oltre andiamo appunto a vedere questo trent di mana che troveremo sul campo è un costo 2-2-2 ragazzi se viene involuzionato sono veramente azzi amari e andiamo dal ladro con la sua quest esplorare gli abissi a costo 1 missione gioca 4 servitori con lo stesso nome ricompensa nucleo cristallino what what eccolo qua il nucleo cristallino per il resto della partita i tuoi servitori sono 5-5 c'è da fare qualche chiarimento per quanto riguarda questa carta tutti i tuoi servitori saranno 5-5 di base sia summonati sia giocati dalla mano quindi se un avversario vi fa pecora su un vostro minion la pecora sarà 5-5 la stessa cosa per la frog edwin quando lo andate a pescare sarà un 5-5 ma sarà potenziabile dalla mano come al solito quindi partirete già con un edwin 5-5 per farlo diventare molto grosso per non dire gigantesco quindi questa è un'altra meccanica molto particolare molto interessante per aiutare a completare questa quest abbiamo una nuova magia appunto del rogue costo 3 baccello imitatore pesca una carta ne mette una copia aggiuntiva nella tua mano quindi giochiamo questa la peschiamo e ne avremo due e speriamo che siano cose interessanti e cose forti andiamo da un'altra carta per quanto riguarda il ladro costo 5-3-4 combo distrugge un servitore non mi sembra assolutamente fortissima la quest del ladro ragazzi non vi ho dato il mio parere personale ma sinceramente faccio fatica a inquadrarla in questo momento bisogna provarla e quindi non vi do un mio parere fatemi sapere anzi voi cosa ne pensate nei commenti a proposito la skin del ladro quella nuova ve la daranno come già detto dopo la vittoria di 10 partite con qualsiasi classe in ladder o in amichevole non contro i vostri amici quindi avrete la skin del ladro completamente gratuita andiamo dal mage con vincolo di mana costo 3 segreto quando l'avversario lancia una magia ne mette una copia nella tua mano che costa 0 questa ragazzi questo è un segreto mi sembra molto interessante bisogna tenersi chiaramente la moneta contro mago oppure qualcosa che spacchi segreti perché questo è veramente un segreto tantalava però pensate qualcuno che gioca incautamente casacus e ci butta la magia 10 di mana ma finisce avrà una magia da costo 10 appunto che costerà poi 0 insomma bisognerà molto stare molto molto niente questa carta in un mago con i segreti che sembrano che sembra essere molto spinto da questo punto di vista potrebbe dare molto fastidio un'altra cosa non è stata ancora rivelata la quest per quanto riguarda il paladino ma abbiamo visto il servitore per un leak per quanto riguarda il mago anche questa non è stata rivelata io credo credo suppongo abbia a che fare con gli elementali vista anche la sua leggendaria quella che giochi a 2 poi te la rimetto in mano poi la rigiochi a 6 poi la rigiochi a 10 quindi sono già tre elementali che giochi quindi potrebbe essere una cosa che ha a che fare con gli elementali visto che il mago è molto inerente la cosa passiamo al geyser di fiamme sempre per il mago implice due danni mette un elementale 1-2 nella tua mano questa è un'altra carta che mi fa pensare in quel senso andiamo allora a vedere il paladino come lo chiamo io il paladino costo 6-3-7 la sua leggendaria quella senza quest Sankhi per Tarim ha provocazione e ha come grado di battaglia setta tutti i servitori gli altri servitori sulla bordo sia tuoi che dell'avversario ha 3 di vita e 3 di attacco bisognerà vedere ragazzi quanto riusciremo a mettere pidine piccole sulla board a me sta carta qua così di prima Kito non mi piace tantissimo mi ricorda un po' da un certo punto di vista come cazzo si chiama Edric Edric che non ha mai trovato gioco e forse addirittura è anche più forte di questo qua andiamo a vedere appunto un'altra carta che ci aiuta a mettere le nostre mani d'argento in campo costo 1 persino nella giungla evoca due reclute in mano d'argento 1-1 assomiglia un po' a quella dell'hunter del gatto che metteva 2.2-1-1 in questo caso sarebbe buono giocarlo per esempio in combo con la leggendaria vista prima ma sono meccaniche che al momento per il paladino non mi convincono ancora molto e andiamo alla super leggendaria che ucciderà dalla quest del paladino costo 5-5-5 Galvan Don non sappiamo ancora la quest questa carta è un leak non è ancora ufficiale ma molto molto probabilmente sarà così è una bestia come battlecry di battaglia adattati 5 volte vi ricordo gli adattamenti ragazzi sono di tutti i colori di tutto e di più e quindi potremmo usarla sia difensivamente che offensivamente occhio chiaramente a giocarla subito tutte queste carte con battlecry perché chiaramente c'è il ratto di fogna se pensiamo che il mazzo dall'altra parte ce l'abbia bisogna giocarla subito ho già in mente la giga combo con il senza volto mutante fare delle cose incredibili tipo furia del vento copertura più 3 attacco poi dopo giochi raddoppia l'attacco con la magia del paladino e la copy con senza volto mutante o robe del genere oppure si può giocare in maniera difensiva con non targettabile da poter eroe taunt pompagli da salute e anche qua si può copiarla chiaramente ragazzi il problema è sempre per queste carte che escono da quest involuzione dello sciamano che a costo 2 ti inchiappetta davanti e di dietro passiamo invece al prete una carta che mi fa aggasare a quanto la carta quiz la chiamo io con Mike Buongiorno non so se ve lo ricordate e tutti gli altri perché è Curious Glimmeroot è un costo 3-3-3 come grido di battaglia guarda 3 carte indovina quella che sta nel deck del tuo avversario se la indovini ti pigli una copia di essa cioè ragazzi è la carta quiz è fantastica cioè è veramente una trollata unica mi piace mi piace anche se è del non amo particolarmente come sapete il prete perché mi ruba di tutto anche se è una classe che ammiro mi piacerebbe padroneggiare bene ma è troppo lenta mi fa addormentare però la roba di rubare è sempre una trollata quindi mi piace andiamo avanti ancora col priest che non riesce a matere nel ferme le mani perché a costo 1-1-1 arriva un elementale crystalline oracle che ha come rentro di morte copia una carta casuale chiaramente dal mazzo del tuo avversario te la mette in mano un'altra carta che fa sparire tutto altra carta molto interessante alta carta da prete costo 2 shadow vision scopri una copia di un incantesimo ancora nel tuo mazzo quindi se vi manca una rimozione c'è giù quel servitore lì grosso non ho parola d'ombra morte la posso andare a scoprire con questa e piazzarla dove voglio in più non ve la prende dal mazzo perché ve la copia secondo me anche questa potrebbe trovare spazio assolutamente in un mazzo chiaramente discretamente lento e poi abbiamo i desta miraggi costo 2-3 grido di battaglia selezione un tuo servitore ne evoca una copia 1-1 quindi è un mini araldo volasi questo decisamente con più impatto perché costa poco e possiamo mettere a 1-1 tanti tanti servitori interessanti tanti tanti servitori interessanti e passiamo al nostro super amicone sciamano costo 877 elementale la leggendaria che non esce dalla quest come grido di battaglia se hai giocato un elementale il turno passato puoi castare l'elemental invocation l'elemental invocation sono delle magie a costo 0 che questa carta casterà autonomamente e sono invocazione dell'aria fa 3 danni a tutti i servitori nemici a costo 0 tanta roba senza sovraccarico oppure l'invocazione della terra ci riempie la board con 1-1 fino al raggiungimento appunto massimo dei posti sul terreno di gioco che quindi sarebbero la leggendaria più altri 6 servitori 1-1 oppure fa 6 danni faccia all'ero nemico con l'invocazione del fuoco e l'ultima l'invocazione dell'acqua ci ristora 12 di vita al nostro eroe sembra decisamente buona perché a costo 1 faremo tante cose e poi abbiamo la questa 1 dello sciamano anche questa molto interessante summona 10 murloc e la ricompensa è mega fin summona vuol dire ragazzi sia giocarli dalla mano sia summonati tramite spell vi ricordo che c'è la spell dello sciamano che mette 4 murloc in campo se non ricordo male a costo 4 e ci dà mega fin costo 5-8-8 vedete ragazzi anche questo è il video di battaglia anche questa è carta da giocare subito in caso di talpa maledetta ratto di fogna che ci porta via al video di battaglia ed è un murloc e ci riempie la nostra mano tutta quanta la nostra mano con murloc casuali quindi invasione di murloc in questo caso sembra che questa carta con tanto valore tanto valore bisogna vedere tra tutte queste quali saranno quelle più facili da completare quelle magari un po' più complicate passiamo all'elementale ancora per lo sciamano 7-8-7 4-4 a grido di battaglia evoca due elementali 2-3 con provocazione se hai giocato un elementale nel turno precedente quindi la meccanica dell'elementale è sempre così bisogna giocare nel turno precedente un elementale per poi sfruttare il grido di battaglia dei pezzi grossi andiamo a questo punto dallo stregone che aveva come vi ricordate la quest di scartare 6 carte ci dava il nether portals che ogni nostro turno alla fine del nostro turno ci metteva 2-3-2 in campo e non era rimovibile e ci hanno dato anche la leggendaria quella normale costo 2-2-2 è una bestia clutch mother zavas quando scarti questa carta te la rimette in mano e prende più 2-2 quindi questa cosa ragazzi dello scartare 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 sapete che non mi fa proprio impazzire però la stanno pushando duro potrebbe essere la volta buona che funziona sembra una buona carta perché se la scartiamo un paio di volte a costo 2 avremo un 6-6 tranquillo in campo e poi c'è una magia che invece fa abbastanza cagare sempre dello stregone costo 2 nebbia corrompente corrompe tutti i servitori all'inizio del tuo turno vengono distrutti sia quelli dell'avversario che i tuoi andiamo a vedere l'ultima carta di oggi che è il costo 1-1-1 è un'arma del warrior è un'arma troll perché è tipo muta forma zirus ossia alla fine di ogni turno si trasforma in un'arma diversa di quelle collezionabili per quanto riguarda tutto arston quindi funziona più o meno come quel servitore chiaramente è un'arma troll è un'arma per mazzi strani sinceramente ragazzi sono un po' preoccupato perché non ho visto servitori o magie particolarmente interessanti a parte appunto il discover del warrior e quest'arma per poter creare i miei mazzi i miei mazzi un po' pazzi quindi sono un po' preoccupato vi dico anche che non ne ho la minima idea per quale motivo ho tenuto la cuffia per tutto il video non lo so forse è l'abitudine cioè la cuffia non sentiva niente questa è una cosa incredibile quindi mi scuso per questa cuffia che non c'entrava assolutamente una funga con il video posso capire durante il gameplay ha senso ma se no che cazzo sento la musica c'è qualcuno che mi suggerisce non lo so vabbè l'ho tolta adesso ragazzi questa espansione sembra ricca di tante meccaniche tante cose nuove tante cose diverse la mia unica speranza è che sì ci sia un po' di bilanciatura tra tutto quanto cioè le idee sono belle funzioneranno è come dire giochiamo con sette attaccanti al calcio figata ma funzionerà no queste funzioneranno lo scopriremo presto vi ringrazio ancora per i like i commenti le visualizzazioni un saluto dal duca alla prossima ciao ciao